Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic Hai fatto meno grintoso del solito e benvenuti in un nuovo video È il video più grintoso del solito, non l'ingresso Perché oggi siamo veramente contenti di presentarvi una cosa su cui abbiamo lavorato per tanto tempo E veramente non vediamo l'ora di farvi vedere Non siamo diventati Galeazzi 2.0, non abbiamo qui i cellulari per recensirli Ma per farvi vedere, alcuni di voi lo avevano già notato, non so come Perché è già stata pubblicata Ma ha detto che l'abbiamo spoilerata noi Sì, forse l'abbiamo spoilerata nella live, però non lo so Porca troia, mannaggia a noi L'app di Just Track It E da qui si intuisce anche il titolo Come abbiamo già anticipatamente presentato mesi fa Just Track It, nel caso non lo conosceste, lo trovate sempre qui sotto in descrizione È il canale Telegram che abbiamo aperto ormai tempo fa Per seguire e monitorare l'andamento dei prezzi Soprattutto, diciamo, portando anche i prezzi migliori al momento reperibili Per tutto l'hardware e tutte le cose che non si trovano Un lavoro enorme da parte dello staff per portare un risultato alla community Perché, come ben sapete, come vi abbiamo già più detto C'è Amazon, sì, che ha comunque l'affiglia di tracciato Ma tutto il resto, un drop MSRP è tutta cosa che facciamo per la community Perché non c'è minimo ritorno Che ci permette di tracciare PS5 su tutti A prezzo MSRP e accade abbastanza spesso ogni volta che esce Schede video, RTX 3000 MD, Xbox Series X e tutti i drop MSRP Allora, come abbiamo già visto anche il primo passo, diciamo, il primo step dopo il lancio del canale Telegram È stato un po' il sito che abbiamo visto insieme qualche mese fa E che già di base facilita di molto Soprattutto la ricerca Per chi non vuole vedere magari tutte le 30-90 perché non se ne fa niente Ma cerca la scheda specifica Già il sito era una grande mano in questo senso Questa è proprio la mano definitiva in tutto e per tutto Dall'applicazione, qui state vedendo il feed totale Con tutte le notifiche attivate Quindi tutte quelle che sono le ultime uscite, quelle anche, diciamo, ordinate per data Quindi queste sono proprio le ultime schede che sono uscite su JustTrackit Potete andare a filtrarle Sia ad Android sia ad iPhone E la cosa figa è che ovviamente Telegram per tutta la sua infrastruttura rimane comunque migliore Perché poi se esce una roba possiamo parlarne su Prodigy Cofficial Esce anche Prodigy Coffert Quindi Telegram rimane un po' sempre e comunque la nostra casa Questa è di fatto un'opportunità in più Che vi permette di tracciare singolarmente Soprattutto per chi non ha Telegram Soprattutto per il mondo Apple che non ti permetteva di tracciare singolarmente Mentre su Android si permette proprio singolarmente di tracciare il prodotto che state cercando Tra l'altro anche i drop ufficiali MSRP È proprio una roba a parte Drop ufficiali MSRP che tra l'altro sono arrivati anche l'altro giorno Giusto perché ce lo chiedevate nei video scorsi Sì, un po' scarico L'altro giorno devo dire che effettivamente è stato un mini drop In pochissimi siamo riusciti a prendere qualcosa E di fatto, vabbè, ci sta Siamo Poi come al solito abbiamo fatto crashare il DLC O come cavolo si chiama il sito Perché vabbè, quando sono uscite è andato in malora tutto quanto Quindi fateci sapere in primi se siete riusciti a recuperarle Perché sono uscite tutte le SKU l'altro giorno È ovvio che noi l'avevamo detto ragazzi Il primo drop non sarà replicabile Perché il primo drop è successo Che noi l'abbiamo segnalato a voi Non lo sapeva nessuno al mondo Che sarebbe successo adesso Che tutta Europa sa che in Italia Escono le GPU sul DSC Ovviamente le antenne si sono drizzate in tutta Europa Quindi, ok, abbiamo shippato un po' di schede i francesi I francesi ovviamente adesso un po' si sono incazzati Esatto E qualcuna ce la shipperanno a noi L'applicazione per come è strutturata adesso è semplicissima ragazzi Ed è quello che deve fare Esatto, deve fare semplicemente quello divisa in due schede Adesso stiamo valutando anche come aggiornarla Ma magari dateci anche voi in primis dei feedback su come aggiornarla Però di base le offerte sono la prima scheda ed è il feed appunto che vi ho fatto vedere anche prima Con tutte le uscite E la seconda scheda sono le impostazioni appunto da cui andare a selezionare tutti i vari filtri Per ricevere tutte le notifiche che vi mandano direttamente ovviamente al prodotto poi Ovviamente su Apple avete il pulsantino Apple, su Android avete il pulsantino Android La situazione, come sapete, in questo momento è letteralmente tragica ragazzi Sì, è peggiorata di nuovo Più che altro la componentistica, e ve lo posso assicurare Lavorando in una delle più grosse aziende italiane del settore È veramente devastante Non si trova nulla a livello proprio di componenti elettronici Regolatore, amplificatore, quasi niente Per cui, anche notizia di questa settimana Che Sony ha ridotto di un milione le PS5 producibili E ovviamente le vedete che le schede video sono ritornate ai prezzi preestivi Purtroppo, avevamo visto un minimo miglioramento durante appunto i mesi estivi O comunque appena precedenti all'estate Poi le cose stanno pian piano risalendo Ritornando un po' al periodo nero di inizio anno O comunque dei primi mesi dell'anno Il 2022 però, sia per PS5, sia per le schede video Sembra essere un po' un anno in discesa Quindi non succederà dall'oggi al domani che c'è tutto Ma ovviamente migliorerà pian piano Come quest'estate, chi è riuscito a prendersi qualche GPU Non MSRP, per l'amore del cielo Però un prezzo umano in una situazione di crisi di questo tipo Sicuramente si fa in questo periodo un bel po' di gaming a un prezzo decente Soprattutto se aveva una GPU vecchia Perché il fatto è che in questo momento, ok, il nuovo è aumentato Ma se tu hai una GPU non troppo vecchia che riesci a vendere Cioè, il nostro amico ha appena venduto una 2060 Quasi 500 euro Abbiamo l'esempio concreto proprio Ha preso, il nostro amico famoso, ha preso la 3070 Ti a 620 Ha venduto a quasi 500 euro La 2070 ha fatto un upgrade per 120 euro Ed è uno dei nostri più cari amici Ma non è solo lui, perché abbiamo sentito anche tanti di voi Che sono riusciti a rivendere un pochettino il vecchio Facendo una extra super valutazione dell'usato in generale Esatto C'è anche questa possibilità Se riuscite a comprare un prezzo minimo decente E questo magari potrà succedere forse qualcosa a fine anno Molto più probabile inizio l'anno prossimo Che qualcosa si riesce a prendere E avete del vostro da vendere Riuscite un po' a appiattire questo gatto è gigantesco Se avete le 5.700 e 5.700 XT vendetele Ma tutte si vendono, non solo le 5.700 Però quelle si vendono come il pane Quello è il fatto Vorremmo citare una persona che ha scambiato una 6.800 XT per una 5.700 Vorremmo citarla ma non vogliamo Però grande, grandissimo Tu sai che stiamo parlando di te Esatto E quindi purtroppo Perché dobbiamo dirlo Purtroppo a noi piaceva avere solo prodigie offerte Segnavamo tutte le offerte E eravamo tutti contenti Ovviamente Perché la roba c'era Questi metodi servono ancora per riuscire a comprare Perché purtroppo la concorrenza Di botte esterni Gente che ne vuole ricomprare 200 E tutto C'è La cosa che mi preme soprattutto dire È che questo non vi assicura nulla No esatto Il periodo Non è una soluzione Per trovare tutto È l'Eden Non è arrivata questa soluzione totale Non vi stiamo dando Firmando un contratto Con cui scaricate l'app Avete una scheda Esatto Infatti Non esiste L'abbiamo detto fin da subito Gestarket È una freccia in più al vostro arco Che vi permette Di avere delle possibilità in più Per comprare una scheda È un metodo gratuito Che tra l'altro Ci stiamo sbattendo un botto Per tenere su Per cui Se non riuscite a prenderla Purtroppo ci dovete mettere del vostro Non bastiamo noi Non è più il periodo In cui potete andare su Amazon E cliccare e comprare Siamo in una crisi Ok che siamo tutti abituati Ad essere vissuti in periodi Dove bastava avere i soldi Per comprare tutto Infatti Infatti Al momento non è quello E non è così da un po' di tempo Purtroppo Bisogna anche un po' Da parte nostra Un po' sbattersi Quello che abbiamo detto Nel nostro amico L'ha capita Si è messo lì Ed è riuscito a prenderla Ovviamente Ci vuole uno sbatti Poi non è che stiamo parlando Di una settimana Lavorare in miniera Dovete solo Essere celeri Sulle notifiche Adesso però Bisogna essere un po' più attenti Adesso avete Tutto l'armamentario Al completo Avete Telegram Avete il sito Avete l'applicazione Quindi potete Sbizzarrirvi Da ovunque siate Cioè se siete al PC Se siete a lavoro Avete la notifica sul PC Se siete in giro Avete la notifica Dall'applicazione A lavoro sul PC A casa Su Telegram O ce le avete tutte Adesso ce le avete tutte Questo è un ecosistema Già stranchito adesso Meglio di Apple Oltretutto Come sapete Fra poco tempo Due settimane circa C'è il Black Friday Quindi ovviamente Anche Prodigio Offerte Che forse implementeremo Non lo so Infatti quello faceva parte Anche delle cose Però in questo momento Seguitelo su Telegram Perché lì Seguiremo tutto 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 Il Black Friday Con le offerte Da un lato Sono contento Di darvi queste novità Perché Sono cose che sono Quando uno mi scrive Dice Sono riuscito a prenderla Ma un sacco di voi Ci hanno scritto Sono riuscito a prenderla La scheda gestare Grazie per il lavoro È sempre soddisfacente È sempre soddisfacente Però Quando ti servono Questi metodi Vuol dire che Il mondo Il tuo settore Che ti piace tanto Non è proprio Uno stato di salute Quindi C'è un Questo dualismo Tra Essere contenti E no Perché di fatto Non dovrebbero servire Metodi del genere Per comprare la scheda video Però Tant'è Quindi non ci possiamo Fare niente Come detto Questa è semplicemente Un'arma in più Per voi Quindi fateci sapere Che cosa ne pensate Dateci tutti i feedback Che volete Scaricate la manetta L'altro Giovedì Sono uscite PS5 Il drop ufficiale MSRP E il drop MD È stata una delle giornate Più Più Ricche Vabbè che poi C'era poca roba Perché i due drop Di schede video Non sono stati Chissà che rosa Però Ovviamente Dobbiamo aspettare Quello che ci mandano Le case Tra l'altro Voi non lo sapete Ma ho trovato Un rivenditore Un'azienda Che segue Che vende anche Componenti elettronici Quindi l'ho contattata Per i cazzi miei È un enorme rivenditore Di fattura Tipo un miliardo e mezzo Di dollari Non lo so neanche io No non posso dirvelo Aveva uno stock E io ho chiesto il prezzo Di 480 RTX 3080 Io ho chiesto il prezzo E mi fa Per 5 pezzi Era Zotac Per 5 pezzi 1579 dollari Per 10 pezzi 1525 dollari Quindi C'è proprio questi Rivenditori Questi reseller Di GPU Che tra l'altro Avevano anche Tutte le RTX A6000 A8000 Tutti a stock Ma in quantità Anche Aveva alcune CMP Gli ho chiesto Ad esempio Il prezzo Per la 170 Quella enorme Gigantesca Non me l'hanno ancora Quotata Però Ci sono in giro Questi Cioè veramente Il settore È totalmente E merda Siamo un po' alla frutta Perché comunque Lo so che alcuni di voi Magari si innervosiscono A sentire queste cose Ma Le cause Di questa situazione Ormai le sappiamo Ce ne sono tante Sono molteplici Ma è ovvio È ovvio E come abbiamo detto Che in tempi di crisi C'è chi piange E chi vende fazzoletti È ovvio che Nel momento in cui C'è una difficoltà C'è chi fa speculazione Ci lucra Questo Non l'abbiamo mai negato C'è una componente Speculativa Sicuramente Oltre ad oggettivi Problemi Che causano Appunto anche Bolle speculative Quindi ragazzi Fateci sapere Cosa ne pensate Se avete problemi Con l'app Qualsiasi Fateci la segnalazione Tutto Anche su Telegram Tutto Tutto Fateci sapere La vostra Fateci sapere Se vi è utile Fateci sapere Se la usate Tutto quello che volete Come al solito Qua sotto nei commenti E alla prossima ragazzi Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti